Sabato, faccio fatti i maes al burro. Maes al burro? Come fanno i pub. Voi faccio le questione. Voi faccio le questione. Voi faccio le questione. Voi, perché non lascio mai assaggiare. Voi faccio sapere. Ha una ragione, i miei, che fanno i pub che non sono mangiato. Troppo buoni. Però io ero puntolato. Siete lì? Buongiorno. Cosa stiamo facendo? Sto tagliando anche i prosciutto. Voglio fare i maes al burro come fanno i pub. Maes al burro? Come nei pub? Poi, i miei bambini, lì sono mangiato. Oggi sono preparati. Eh, ma quelli sono buoni. Senti, io non ho mai mangiato. Però ho sentito i miei nipoti che sono preparati. E ora lo faccio pure. Vediamo, vediamo. Quindi cosa abbiamo preparato? Burro, prosciutto, maes e sottileggio. Prosciutto cotto? Sì. Ok, andiamo a prepararlo? Sì, come prepariamo. Oggi ho visto 20 grammi di burro. 20 grammi di burro? E lo facciamo sciogliere. E si fa sciogliere lentamente in padella. Ecco qua, vedi come si scioglie. Deve stare facendo proprio le cose per i giovani. Sì, ma lo stiamo facendo non più la roba antica, lo stiamo facendo per i giovani. Facciamo quello e quello. Sì. Quindi il burro si sta sciogliendo. Sì. Ora ci vale da mettere il prosciutto cotto. Il prosciutto cotto. Ecco il prosciutto cotto. Eccolo qua. Lo facciamo soffriggere un po' nel burro. Facciamo soffriggere un po' il prosciutto cotto nel burro. Ho preso i mais, 200 grammi e ne mettiamo dentro. 200 grammi di mais in padella. Vabbè se facciamo friggere. Sì, ma burro e prosciutto. Figliere. Non comincia a scoppiettare. A scoppiettare, sì. Quindi lo facciamo cuocere così lentamente fin quando non comincia a scoppiettare. A scoppiettare. Il mais sta a cominciare a scoppiettare e ci mettiamo... Le due sottilette. Due sottilette. Sì, due. Quella classica, le sottilette di formai. Sì, sì. E abbiamo lasciato un po'. Guarda, perché il caldo che sta sotto lo... Già sono sciogli. Già sono sciogli. Guarda. Piano piano. E le facciamo sciogliere insieme a tutto. E' meglio del pub. Guarda. Eh, le facciamo meglio del pub. Le facciamo. Piena e piena di roba lo facciamo. Guarda, ma fa una cosa. O facendo? Ecco. Guardate, guardate. Ecco, guarda. C'è un po' di sale. Un po' di sale. Sì, sì. Per insaporire. E' un po' di mio pepe. Pepe. Sì, se li siete resi. Eccolo qua. Ecco qua. Pochissimo. Sto dicendo che vi metta 6 pepe. Vogliamo la mettere nel piatto. Andiamo ad impiattare. E lo proviamo. Sì. Guarda che non ti nascondi. È la mia morte. Lo provo anche io. Sabe tu? Faccio farti male il salburro. Ma il salburro. Come fanno i papi. Vado a fare le questione? Vado a fare i assaggi? Vado a fare i miei assaggi, perché non c'ho mai assaggiato. Vado a fare i due. Ha una ragione nel punto mio. Quando i papi non sono mangiato. Troppo buoni. Fa loro lì. Che a lui ho mettuto l'altro.